buongiorno in questo video vi presentiamo una nuova serie di formulati di manica questa nuova linea si chiama abies ed è composta da tre prodotti abies fe abies mix e abies cu questi prodotti sono dei fertilizzanti a base di microelementi complessati con ligno solfonati i ligno solfonati sono dei complessanti di origine naturale che derivano dalla solfonazione della lignina la lignina appunto deriva dalle piante e per questo abbiamo deciso di dare nome abies a questa nuova linea di prodotti che appunto vuol dire abete in latino rispetto ai chialanti di sintesi come dta di tpa e dbh ligno solfonati sono molto più selettivi infatti la pianta riconosce ligno solfonato come un prodotto di sua sintesi e rende il metallo meno aggressivo nei confronti della vegetazione ligno solfonati rispetto ai chialanti di sintesi sono totalmente biodegradabili infatti dopo pochi mesi la lignina si trasforma e si degrada nel terreno la formulazione vg è una novità molto importante per questo tipo di prodotti poiché di solito sono presenti sul mercato in formulazione polvere o liquida il colore caratteristico è scuro appunto dovuto sia dal microelemento che anche dal ligno solfonato il granulo di manica garantisce un'ottima dispersività come vedremo in questa prova in pochi secondi il granulo si disperde senza creare schiuma una caratteristica fondamentale dei nostri prodotti il grado di solubilità che è sempre superiore al 99,5 per cento la frazione insolubile sempre inferiore quindi lo 0,5 per cento e questo permette anche di usarli in fertilizzazione in questa prova vogliamo far vedere appunto che passando la soluzione all'1 per cento in un setaccio da 100 micron il prodotto passa senza lasciare alcun residuo sul setaccio i dosaggi di applicazione di ABS FE e ABS mix sono circa 2 kg per ettaro mentre i dosaggi di applicazione di ABS CU sono da 0,5 a 1 kg per ettaro se volete conoscere ulteriori caratteristiche di questi tre prodotti visitate il sito www.manica.com